Si è svolta il 26 agosto scorso presso i locali del Liceo Classico dell'Istituto Virgilio di Mussomeli la manifestazione conclusiva di uno dei moduli del progetto PON Giovani in Alternanza, quello relativo alle Madonne del Biancardi, a fare gli onori di casa alla dirigente scolastica dottoressa Rinagenco che in un clima di festa e condivisione, assieme ai tutor professoressa Gabriella Barba e professor Celestino Saia e agli alunni coinvolti nel progetto, ha presentato al territorio pellegrini itineranti alla volta della Sicilia, l'opera dei Biancardi, il frutto di un interessante approfondimento storiografico contotto da un gruppo ben nutrito di allievi del Liceo Classico dell'Istituto Virgilio. Per la verità la scuola non è nuova a queste esperienze significative. Ormai da diversi anni, grazie anche al Presidio di Storiografia Locale, istituito nell'anno scolastico 2016-2017 e fortemente voluto dalla dirigente, gli alunni del Classico sono stati impegnati nella realizzazione di numerose iniziative culturali che hanno loro permesso non solo di riscoprire e apprezzare il patrimonio artistico e culturale locale, ma anche di divenire loro stessi promotori del territorio. Il modulo è nato con un tuplice obiettivo, da una parte rafforzare nei giovani il senso dell'appartenenza e dell'identità attraverso il loro coinvolgimento nel processo di conoscenza e promozione dei beni artistici e culturali del territorio. Dall'altra valorizzare le capacità personali di ognuno dei nostri alunni al fine di poterli orientare anche nelle loro scelte future. La pubblicazione elaborata dal 23 gennaio al 3 marzo 2020 ha coinvolto gli allievi del triennio i quali hanno ricostruito l'itinerario umano e artistico dei Biancardi, Francesco e Vincenzo, gli scultori napolitani che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento realizzarono dei veri e propri capolavori dalla Calabria alla Sicilia il lavoro che ha visto anche la realizzazione di un interessante video curato dai ragazzi è stato caratterizzato essenzialmente da due momenti il primo basato su lezioni d'aula e sulla consultazione di una vasta bibliografia sull'argomento il secondo momento in cui gli allievi hanno ricoperto un ruolo attivo nel progetto infatti da fruitori i giovani sono diventati protagonisti dell'azione informativa soprattutto attraverso gli stesi questi ultimi sono stati determinanti perché hanno reso possibile una stretta collaborazione degli alunni con esponenti della cultura del comune di Cittanova in provincia di Reggio Calabria con esperti sull'argomento di Cartanessette e di molti comuni del Vallone su Terra, Villalba, Vallelunga, Milena, Delia, Marianopoli, Serre di Falco e con il clero locale e la prologo di Mussomeli questa ricerca sul campo ha dunque molto favorito la crescita umana e culturale dei giovani i quali grazie a questo metodo laboratoriale attivo offrono al territorio non un'opera compilativa sui biancardi ma una pregevole pubblicazione ricca di testimonianze dirette atti inediti, foto e schede catalografiche sui gruppi scultori vivissima la soddisfazione della dirigente, dei tutori e dei ragazzi per la riuscita del progetto e della manifestazione impreziosita tra l'altro dalla proiezione del significativo video sui biancardi per una iniziativa che assieme a tutte le altre portate avanti in questi anni dalla scuola ha fatto crescere tutti, non solo gli allievi infatti a chiare lettere è emerso che solo attraverso la contivisione di valori attraverso il confronto reale e sereno delle idee e l'apertura verso gli altri si matura veramente e si comprende che quelle esperienze non si sono concluse in maniera definitiva perché sono destinata a dimorare per sempre nel vissuto di quanti che ne hanno fatto parte avendo già lasciato in ognuno di loro un'impronta intelleggile buongiorno a tutti oggi siamo qui a vivere insieme un evento significativo della nostra esperienza scolastica dell'anno 2019-2020 è un evento ufficiale previsto dal progetto che noi abbiamo realizzato qui a scuola e questo evento si configura come un momento di disseminazione successiva e di pubblicizzazione dei risultati di che cosa parliamo? noi abbiamo partecipato nel 2018 a un avviso l'avviso 9901 del PON FSE che ci permetteva di finanziare percorsi di alternanza scuola lavoro l'alternanza scuola lavoro è stata introdotta dalla legge 107 che ha riconosciuto l'alternanza scuola lavoro che già esisteva prima come parte integrante del percorso formativo dei giovani poi il decreto legislativo 62 del 2017 ne ha fatto un requisito per gli esami di Stato cioè era necessario avere vissuto percorsi di alternanza per poter essere ammessi agli esami di Stato le vicende recenti, l'emergenza che ancora stiamo vivendo per l'anno passato hanno derogato a questo obbligo però di fatto i ragazzi che hanno già fatto esami lo sanno è stato parte del colloquio il riferire dell'esperienza dell'alternanza scuola lavoro e questa alternanza che adesso va con l'acronimo di PCTO percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento noi abbiamo ideato insieme ai docenti presenti percorsi in alternanza che potessero legarsi con il territorio e in particolare con il patrimonio culturale del territorio non solo di Mussomeli ma di tutto il ballone del bacino di utenza della scuola in generale abbiamo cercato cioè di realizzare percorsi di apprendimento flessibili e innovativi che permettessero di collegare l'esperienza curriculare fatta dai nostri giovani con l'esperienza di lavoro sul campo nella filiera di riferimento è stata un'esperienza davvero positiva perché i nostri studenti hanno mostrato grandissimo interesse tant'è che abbiamo avuto un elevato numero di partecipanti circa 40 stiamo parlando del modulo di giovani in alternanza e in particolare delle madonne del Biancardi abbiamo riscontrato moltissimo interesse, dicevo e abbiamo potuto perciò valorizzare le bellezze il patrimonio del nostro territorio e questo io seguo sempre alle norme noi abbiamo la legge 9 regionale e le linee guida del 2018 di questa legge lo raccomandano che ci impegnano come scuola a guidare i giovani alla riscoperta del patrimonio culturale nella Sicilia è un dovere previsto dalla legge e ogni volta reiterato nelle linee guida annuali poi abbiamo anche un piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale e proprio la Convenzione di Faro connota il patrimonio culturale come un momento fortemente formativo della personalità dell'alunno voi avete avuto la possibilità di aprire gli occhi nel percorso di ricerca su ciò che vi circonda e su cose che magari avete imparato a vedere da piccoli ma che non comprendevate davvero perché il vedere senza conoscere ovviamente non costituisce fonte di sapienza e di conoscenza quindi siete stati guidati in questo percorso avete riscoperto e catalogato opere importanti dei biancardi ne parlerete voi più diffusamente i biancardi che venivano da Napoli poi si sono trasferiti a Cittanova ma che hanno avuto come dicevo prima hanno avuto la possibilità di esprimersi pienamente a Mussomeli interpretando quella che è l'anima della religiosità dell'umanità mussomelese nella espressione della devozione mariana le tre statue più belle sono quelle della Madonna del Carmelo con la quale i biancardi si affermano si fanno un nome diremmo oggi nel panorama della scultura regionale non solo la Madonna dei Miracoli e la Madonna della Dolorata abbiamo tante altre cose ovviamente non le dirò io perché devo fare soltanto l'introduzione ma devo esprimere a margine di tutto ciò il mio compiacimento perché quando nel 2018 sempre nelle calure estive abbiamo confezionato l'azione progettuale forse non ci aspettavamo di giungere a quest'opera che è di deliziosa fattura e di grandissimo valore storico e storiografico perché catalogare, scrivere, descrivere annotare, collocare nel tempo e nello spazio è il fondamento per qualsiasi ricerca storiografica quindi complimenti agli adulti alla professoressa Barba che ha ideato il modulo al professore Saia che l'ha aiutato a guidare i ragazzi in questa straordinaria opera di ricerca nei territori la qualcosa mi è piaciuta moltissimo ma soprattutto complimenti ai ragazzi che come sempre non ci deludono e anzi ci danno grandissime soddisfazioni complimenti a tutti grazie 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 a tutti allora con grande piacere presentiamo oggi al territorio pellegrini ineranti alla volta della Sicilia le madonne del Biancardi il frutto di un interessante approfondimento storiografico condotto da un gruppo ben uscito di alunni del liceo classico dell'istituto Virgilio di Bustonali questo lavoro di ricerca è strettamente legato al PON giovani in alternanza e precisamente al modulo le madonne del Biancardi il modulo nasce con un duplice obiettivo da una parte rafforzare nei giovani il senso dell'appartenenza e dell'identità attraverso il loro coinvolgimento nel processo di conoscenza e promozione dei beni artistici e culturali del territorio dall'altra valorizzare le capacità personali di ognuno dei nostri alunni al fine di poterli orientare anche nelle loro scelte per dire per la verità la nostra scuola non è nuova a queste iniziative significative ormai da diversi anni grazie anche al presidio di storiografia locale istituito nell'anno scolastico 2016-2017 fortemente voluto dalla nostra dirigente Elena Genco i nostri alunni sono stati impegnati nella realizzazione di numerose iniziative culturali che hanno loro permesso non solo di riscoprire e apprezzare il patrimonio artistico e culturale locale ma di divenire loro stessi promotori del territorio andiamo adesso alla presente pubblicazione la presente pubblicazione è stata elaborata dal 23 gennaio al 3 marzo 2020 praticamente abbiamo concluso pochi giorni prima la cittura causa covid e ha coinvolto dicevo gli alunni del triennio del liceo classico i quali sotto la l'unni di vita della sottoscritta e del professore Salle hanno ricostruito l'itinerario umano e artistico dei biancardi Francesco e Vincenzo gli scultori napoletani che appunto realizzarono splendidi capolavori da Napoli fino alla Sicilia vivendo ai musulmani praticamente gli anni della maturazione il lavoro portato avanti dai nostri spendi di alunni organizzati in gruppo è stato caratterizzato essenzialmente da due momenti il primo momento basato essenzialmente sulla consultazione di una vasta bibliografia quindi è stato essenzialmente il primo momento un lavoro d'aula possiamo dire ma secondo un momento quello significativo ha visto gli allievi ricoprire un ruolo attivo nel progetto infatti da fruitori i giovani sono diventati protagonisti dell'azione formativa soprattutto attraverso i pistaggi ecco io mi vorrei proprio concentrare su questa parte significativa del progetto ecco attraverso gli staggi i ragazzi hanno avuto la possibilità di entrare in stretta collaborazione con esponenti della cultura di Cittanova ecco in provincia di Reggio Calabria un paese che ha ospitato diciamo subito dopo il periodo napoletano gli scultori soprattutto Francesco che Vincenzo era piccolissimo ecco ha ospitato Vincenzo e proprio in quel contesto Francesco ha avuto proprio la possibilità come dire di inserirsi nel contesto diciamo delle persone che contavano nella struttura di Cittanova quindi questi ragazzi sono entrati a contatto con esperti delle comune di Cittanova ma poi ancora con esperti sull'argomento di Cattanissetta esperti anche di alcuni comuni del Vallone Suterra Cittanova Taledunca Milena Debbia Marianò Mussomani in particolare con il clero locale e la corretta questa ricerca sul campo ha molto favorito la crescita umana e culturale dei nostri giovani i quali grazie a questo metodo laboratoriale che io definirei proprio attivo offrono oggi al territorio non un'opera compilativa sui biancardi ma una pregevole pubblicazione impreziosita di testimonianze dirette di atti inediti di foto e schede catalografiche sui gruppi scultori personalmente come tutor del progetto sono molto soddisfatta degli obiettivi e dei risultati contenuti dagli allievi che anche in sede di esame di Stato hanno presentato l'esperienza nella commissione dando prova di grande serietà e competenza nell'affrontare l'argomento ecco io in questo momento conclusivo voglio ringraziare tutti coloro che si sono spesi per l'ottimo riuscito del progetto e del prodotto finale la carissima dirigente Rina Genico che splen io non ho chiaro che la nostra solida ha posto le basi per la nascita del progetto giovani in alternanza e ha seguito e incoraggiato ogni azione formativa della nostra scuola il tutor raggiuntivo il professore Saia mio compagno di viaggio con cui si è creato uno splendido rapporto di collaborazione i carissimi Sonia salvo di prima che oltre ad avere realizzato la maggior parte delle foto del libro hanno curato le riprese e il montaggio di un bellissimo video che tra poco vedremo e che verrà e che verrà e che verrà soprattutto ai ragazzi che sono i protagonisti diciamo del progetto i genitori e i nostri meravigliosi alunni che con la loro fattiva partecipazione con il loro zeno e interesse con il loro stimolante entusiasmo testimoniano dal fatto che oggi ci sono tutti praticamente ci sono tutti hanno dato e danno sempre valore e spessore a tutti i progetti intrapresi nella scuola grazie a queste iniziative che abbiamo portato avanti in questi anni ovviamente io che riferisco a questa esperienza non mi riferisco a tutte le esperienze a tutte le iniziative che abbiamo portato avanti in questi anni Presidente siamo cresciuti tutti non solo i ragazzi infatti solo attraverso la condivisione di valori attraverso il confronto leale e sereno delle idee e l'apertura verso gli altri si matura veramente e si comprende che quelle esperienze non si sono concluse in maniera definitiva ma dimoreranno per sempre nel nostro vissuto perché le persone che ne hanno fatto parte hanno già lasciato in noi un'impronta impeleabile grazie 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 professore Saia io dopo tutto questo di buon discorso ho poco da aggiungere ok i miei vedi sono stati fatti io volevo focalizzare su due punti quando si fa un progetto due sono i fattori essenziali chi lo va a ideare chi lo pensa e chi lo realizza allora questo ragazzi forse ve ne renderete conto da dieci anni vent'anni oggi si presenta un testo che resterà un'impronta indelebile sulla storia del territorio sulla storia del territorio le persone passano gli eventi ma quando si scrive un libro quando si realizza un'opera del genere diciamo che noi la definiamo sia una ricaduta il progetto è stato realizzato intelligentemente per avere una ricaduta in modo tale che non sia una cosa fine a se stessa tra dieci venti trent'anni i cultori del territorio gli appassionati delle 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 operatistiche chi vuole chi resterà e chi vuole rilangiare questo territorio potrà attingere a un testo che avete realizzato voi quindi il il progettista e poi gli esecutori bellissima una platea bellissima io ho fatto diversi pon trentanove alunni i poni di solo si fanno con dodici quindici partenza venti poi si arriva qualcuno durante il percorso si ritira qua trentanove ragazzi che siete stati i protagonisti e che oggi diciamo state mettendo una firma indelebile sulla storia del territorio basta applausi 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 Grazie a tutti. Il Liceo Classico di Mussomeli, nell'ambito del progetto PON, Giovani in Alternanza, e più precisamente con riferimento al modulo Le Madonne del Biancardi, presenta Pellegrini itineranti alla volta della Sicilia, le opere dei Biancardi. Un interessante lavoro di ricerca e approfondimento storiografico, che ha coinvolto un gruppo numeroso di alunni del Triennio, con l'obiettivo di ricostruire l'itinerario umano e artistico di Francesco e Vincenzo Biancardi. Questi scultori napoletani realizzarono splendidi capolavori, dalla Calabria alla Sicilia, vivendo a Mussomeli gli anni della maturazione artistica. La vicenda umana dei Biancardi iniziò a Napoli, dove Francesco nacque il 23 febbraio del 1832, da Carolina Tugno e dallo scultore Vincenzo. Ragazzo talentuoso fu mandato a Roma dal padre a frequentare l'Accademia d'Arte. Ben presto però ritornò a Napoli, prima di portare a termine gli studi, e completò così la sua formazione artistica, nella bottega paterna o di qualche abile scultore del luogo. Rimase vedo verso la fine degli anni Cinquanta, di una donna di cui si sconosce il nome, e si risposò con la conterranea Giovanna Allegra, della quale ebbe sei figli. Alla ricerca di una situazione economica più vantaggiosa, Francesco decise di lasciare Napoli e di trasferirsi con tutta la famiglia a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. La permanenza a Cittanova durò ben nove anni, dal 1864 al 1873, e Francesco lasciò una vasta produzione, tra cui le undici varette, che ancora oggi vengono portate in processione il venerdì santo. Nel 1873 Francesco, con tutta la famiglia, si rimise in viaggio alla volta della Sicilia per giungere a Mussomeli. Infatti, ricevette l'ingarico di realizzare la statua della Madonna del Carmelo da parte del rettore Michele Cicero dell'omonima chiesa. Fu sicuramente una scelta coraggiosa, ma che diede i suoi splendidi frutti. Infatti, Mussomeli rappresentò per i Biancardi una svolta significativa, anche perché offrì molti stimoli che determinarono la maturazione della loro arte. Proprio per la chiesa della Madonna del Carmelo, Francesco realizzò nel 1874 il gruppo statuario composto dalla Madonna col bambino in braccio, seduta su una nubola, e San Simone Stoc, ed eseguì sempre in quegli anni il restauro rifacimento della Madonna della Pace. Per la chiesa di San Giovanni Battista fu realizzata l'Adolorata nel 1875, grazie all'unifico intervento del sacerdote Filippo Capodici, originario di Santo Stefano di Cuisquina. Per il Santuario della Madonna dei Miracoli, l'artista napoletano eseguì, su commissione del Rettore Padre Giovanni Sorce, il suo capolavoro in assoluto, il gruppo scultoreo con al centro la Madonna che porta in braccio il bambino. Disteso a terra, in atteggiamento di ringraziamento per la guarigione ricevuta, c'è il paralitico. A sinistra, come si vede, un angelo regge lo stemma di Mussomeli. Sempre per il Santuario, i Biancardi realizzarono la Madonna del Rosario, un bel gruppo scultorio composto dalla Madonna con il bambino, Santa Caterina da Siena e San Domenico. L'opera si trova oggi nella sacrestia e sembra prevalere la mano di Vincenzo. Praticamente poche furono le chiese in cui Francesco e Vincenzo non lasciarono il segno a Mussomeli. Per la chiesa di San Francesco eseguirono, su commissione di padre Emanuele Maida, il restauro e rifacimento di una statua dell'Immacolata, di autore ignoto e di incerta datazione. Per i monti realizzarono il bel volto, le mani e i piedi dell'assunta, mentre il corpo venne realizzato con dralicci di legno e paia, ricoperti di pietre preziose. Ma ciò che suscitò grande perplessità, soprattutto da parte dello storico mussomelese Giuseppe Sorge, fu il restauro e rifacimento del crocifisso di frate Umile di Petralia, che si trova proprio qui, ai monti. Scrisse lo storico che una mano disgraziata, nell'intento di assicurare la conservazione della scultura, o su impiastrare di colore tutto il corpo, profanando quel legno al quale Fra Umile non accostava mai il suo scalpello senza prima essersi preparato con l'orazione. Ad ogni modo, è bene sottolineare che la pratica del restauro e rifacimento era considerata normale al tempo in cui operarono gli scultori napoletani. Tra la fine del 1870 e i primi degli anni Ottanta, la fama dei Biancardi crebbe notevolmente, grazie anche all'operosità di Fortunato, il figliastro di Francesco e la bravura di Vincenzo. Così, la loro bottega fu sempre più conosciuta e apprezzata, e nell'arco di 40 anni, tra il 1870 e il 1911, gli scultori napoletani eseguirono numerose opere anche per i piccoli gentri del cosiddetto vallone. Siamo a Sutera, presso la Chiesa Madre. Nel 1903, Francesco effettuò il restauro e rifacimento della statua di San Giuseppe. Il Patriarca tiene per mano Gesù, mentre con la sinistra regge il bastone fiorito. Anche per la Chiesa Madre di Villalba, i Biancardi lasciarono il segno del loro passaggio. Realizzarono ben tre statue. Quella di Sant'Antonio Abbate, la statue di San Francesco che contempla il crocifisso, è la statue di Gesso e Legno della Dolorata, un gruppo costituito a Maria e un piccolo putto che apporta nella mano destra una corona di spine. Tra il 1873 e il 1874, la bottega di Biancardi eseguì per la Chiesa Madre di Vallelunga una bella immacolata, avendo come punto di riferimento quella di Mussomeli. A commissionare l'opera, fu il vicario coraneo Melchiorre Castragiovanni, che, si dice addirittura, vendetta una casa per l'acquisto della statua. E sempre a Vallelunga, precisamente nella Chiesa delle Anime Sante, è presente la statua biancardiana di San Michele Arcangelo, del 1887, che rappresenta il guerriero alato che sottomette sui piedi il diavolo. Siamo a Milena, dove ancora oggi il nome dei biancardi è legato a una bella statua del 1896, la statua di Sant'Antonio Abbate, protettore degli animali e delle messe. Il santo è rappresentato con la veste lunga, imbugna nella mano destra un bastone e ha ai piedi un maialino. L'opera fu realizzata grazie all'ascito che il signor Giuseppe Chirminisi fece alla Chiesa. Come abbiamo potuto accertare, attraverso il testamento che si trova nell'archivio di questa parrocchia. Nel 1898 fu fatta eseguire dagli stessi scultori anche la statua di Sant'Useppe, patrono di Milocca. E, infine, nel 1904, con gli ultimi denari del benefattore e con il contributo a metà della famiglia Noto Carmelo e Marianna Ferrauto, la chiesa madre di Milena si dotò di una statua dell'Addolorata, anche essa opera dei biancardi. Del 1900 è l'Annunziazione. La Madonna è in ginocchio nel momento in cui le appare l'Arcangelo Gabriele. La statua che Francesco Biagardi realizzò per la chiesa madre di Delia. Sempre in questa chiesa si trova la Madonna delle Grazie. La statua che raffigura la Madonna, che porta la destra al cuore e con la mano sinistra tiene in braccio il bambino. Non uscì dallo scalpello del Biagardi, ma si tratta di un restauro rifaggimento di un'opera della bottega dei Bagnasco. Per Sera di Falco, Francesco scolpì nel 1900 una bella statua in legno di San Giuseppe, che si trova proprio presso l'omonima chiesa. Mentre, di qualche anno prima, del 1897, è la Sacra Urna, che è a piedi a Zamba di Leone, custodita presso la chiesa madre di Sera di Falco. In occasione della precessione del venerdì santo, viene posto dentro quest'urna un gristo morto, di autore non esattamente individuato. Siamo a Marianopoli, dove nella chiesa madre si trova l'addolorata. In verità, Biagardi non scolpì l'intera statua, ma soltanto il viso e le mani. L'opera ha subito varie vicissitudini. Nel 1985 scoppiò addirittura un incendio, che annerì completamente il volto della Madonna, ma oggi un recente restauro ha dato nuova vita ai lineamenti lorci e delicati dell'addolorata, che esprimono dolore e compostezza. Nel 1882, i Biagardi ricevettero dal gruppo dei minatori di Caltanissetta l'ingarico di costruire la Veronica, e da quell'anno in poi si impegnarono nella realizzazione delle statue legate alla settimana santa del capologo Nisseno. Visto il grande lavoro, nel 1886 tutta la famiglia si trasferì a Caltanissetta, dove gli illustri scultori lasciarono numerosi capolavori, tra cui le varie. Ci troviamo proprio a Caltanissetta, nella sala espositiva della chiesa madre di San Pio X. Qui sono costruite appunto le varie dei Biagardi, tranne la Sacra Urna, che si trova in cattedrale. L'ordine che seguiremo è quello della processione del giovedì sando. La Gena L'orazione all'orto La cattura Il sinedio La fragellazione Lecceomo La condanna La prima o Pilato La prima caduta Il cireneo La veronica Il calvario o grecifisso La deposizione Dalla croce La pietà E la dolorata Con le varie di Caltanissetta Si chiude il nostro percorso relativo alla vicenda umana artistica di Francesco e Vincenzo Biagardi. Ci piace concludere con il necrologio apparso sul giornale mussomenese Tinton il 26 febbraio del 1911 in occasione della morte di Francesco. Con dolore annunciamo la morte di Francesco Biagardi. Tutti ricordano le egregie doti di mente e di cuore del Biagardi, il quale visse tra noi molti anni, e tutti ricorderanno sempre il suo nome, perché rimase scolpito nelle migliori statue del nostro paese, che egli esegui con vero intelletto d'amore. Valgono per tutte la Madonna dei Miracoli, con la sua sontuosa bara e quella del rosario, dalle tinte delicate e belle che innamora. Valgono per tutte la Madonna dei Miracoli, con la sua sontuosa bambina di Francesco Biagardi. Valgono per tutte la Madonna dei Miracoli, con la sua sontuosa bambina di Francesco Biagardi. Valgono per tutte la Madonna dei Miracoli. Valgono per tutte le mature che innerhalb dei Miracoli non Si, avev konkurlusione nella morte di Francesco Biagardi... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sicuramente importante ma ancora più sicuramente indelebile nella formazione umana e culturale dei nostri ragazzi, devo concludere il latino visto il contesto, quindi diciamo che inclusum labor illustrat e perciò ad maiora sempre. Grazie a tutti. I ragazzi per il modulo è già pronto il professore Bisaccia per il modulo di Virgilio in alternanza perché io devo scendere rapidamente giù a spiegare il governo della provincia. Mentre fate questo lavoro di sistemazione, va bene? A posto. Grazie a tutti.